Il Ponte Giusto Academy è una scuola sia professionale che amatoriale. È una scuola attrezzata con vari laboratori di pasticceria, panificazione, salsa, pasta fresca e tante altre. Se volete venire a trovarci, a visitare la nostra scuola, siamo disponibili a farvi vedere tutte le nostre cose che prepariamo, che facciamo. I corsi di specializzazione si fanno da novembre a gennaio, con i corsi anche professionali, mentre i corsi amatoriali si fanno sia la mattina che il pomeriggio. Per i nostri corsi amatoriali sono incluse con cena e degustazioni. Per tutti coloro che possono essere interessati ai nostri corsi, potete trovarli sul sito Fonte Giusta Scuola di Cucina oppure potete venire a visitare la nostra scuola in via Camollia 100. Grazie. 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 Grazie a tutti